...fatti in casa e... Io ho mangiato tutto. Ehm, spero di sì, non mi vengono altri... altri figli. Tutta ruvida, a punta ed questa impressione mi dava un po'... Ehm, è insipida, è proprio il sapore. Ehm, è acida. Ehm, molto buona. Diciamo che non ha un sapore ben deciso, ben... Capito? Ehm... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.